Un'onda reincarnativa. In Egitto nel 3300 avanti Cristo, le acque del Nilo avevano bisogno di molta manutenzione nei periodi di siccità, di fertilità e soprattutto di piene distruttive, che minacciavano la sopravvivenza dell'Alto e Basso Egitto. Narmer, sovrano dell'Alto Egitto, riunì l'Alto e il Basso Egitto in un solo impero, dando vita ad uno dei primi stati della storia. Perché quella grande civiltà oggi sembra essersi fortemente degradata? Commento. Perché le comunità fisiche che noi chiamiamo popoli, in genere ogni duemila anni accolgono un'onda reincarnativa di evoluzione inferiore rispetto alla precedente. La legge opera perciò un ricambio di qualità, in modo che anche l'evoluzione inferiore si liberi e divenga a sua volta superiore. Grazie a tutti.